Sì, diciamo che non era proprio il porto più vicino che ci saremmo immaginate, però l'importante è essere riusciti a portarli in salvo in tempi ragionevoli. Questa è la prima missione? Questa è la prima missione della Life Support, sì, quindi era una nuova sfida anche per noi. Noi da tempo lavoravamo già in attività SAR, in collaborazione con altre organizzazioni, ma questa è la prima volta che una nave di emergency attracca in un porto italiano.